Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Nier Automata Bene, ci teletrasportiamo al centro della foresta Vediamo un po' Foresta Foresta, foresta, foresta Al centro della foresta Dove cazzo è la foresta? E' sopra qui, insomma, nel senso Lo sapevo e voglio stare attenti Vi taglio il caricamento Ed eccoci qui, adesso dobbiamo andare tutto a sud Allora, dobbiamo andare di qua Perfetto Siamo a livello 30 Non male, fra poco possiamo fare la parata Quella questa che è vicino al robot gigante Il Golia Ok, dobbiamo andare a ammazzare questi Ok, se noi potenziamenti ci dovrebbero dare... Oh, porca vacca me lo scordate Ok Per il po' dicevo l'acqua della Lugiada Quello cazzo ci manca Dovebbero darla loro Ok Ok Cura le talo Vediamo tutto quello che si può prendere Perfetto, certo che l'autoraccolta mi sarebbe stato servita Cura le tala E anti catena Ok, non ci ha dato un cazzo Va bene Vediamo se c'è in giro qualcosa da raccogliere Perché qui è nella foresta che troviamo quell'acqua che ci serve Ambra Figuriamoci Un po' di fortuna eh Ogni tanto Ok, ci dobbiamo dirigere Se vedete in basso qua c'è un Putino Perché è quel famoso accampamento che noi abbiamo dato la possibilità di poter fare E quindi qui ci sarà anche una quest Qui sta Ed eccoci qua Chiediamo se è qualcuno o no Vedete? C'è una missione E vediamo che missione è Oggi apri i battenti la nostra filiale nella foresta Saremo lieti di poterla servire Ah, proprio una roba del genere così Recupero SM Vediamo, vado qualcosa se c'è e ve lo dico Purtroppo non c'è niente Vediamo adesso cosa ha da dirci So che ti sembra stanno Ma hai proprio l'aria di apprezzare parecchio La gastronomia Sai, mi sto informando sul cibo nel caso La razza umana decidisse di tornare sulla terra Gli umani pensavano sempre a mangiare, vero? Beh, anche a coprirsi e ripararsi Ma soprattutto mangiare Ad ogni modo Sto raccogliendo ingredienti da ogni dove per la ricerca E scommetto che hai voglia di aiutarmi, vero? Dai la mano Grazie mille Allora, ovviamente la carne è in cima alla lista Quindi dovresti trovarmi carne di alce e di cinghialo Quanta ne vuoi esattamente? Perché io ne ho un bel po' Ok Ok, vediamo che cane di alce Ah, cane di cinghiale Sì, c'è tutto Basta saltarlo un po' Con un po' di sale e pepe BOOM Un'esplosione di sapore Credo Lei assaggiata? Va per la maggiore Tra i modelli da combattimento e della resistenza No che ne abbia alcun effetto Gli umani erano davvero incredibili, vero? Basti pensare alla loro cultura culinaria Cosa pensi che succederà a noi androidi quando torneremo? Bene, come culinaria diciamo che siamo messi a bene, dai Quindi sì Dopotutto siamo stati costruiti per combattere e se non dovessimo più farlo A lasciar perdere Abbiamo da fare, no? Continuerò la ricerca sul cibo finché potrò Dopotutto la vita acquatica è ricomparsa in gran quantità negli oceni e nei fiumi Quindi quando gli umani torneranno li accoglierò con un banchetto gargantuelico Mamma mia Ci vediamo Oh porca vacca Attacco, attacco, recupero, 5 mila Mi fa piacere Missione fatta Beh, è già qualcosa, no? Vedete che spesso mi fermo a fare cose però dopo il tempo perso e il tempo guadagnato facendo queste missioni Adesso ritorniamo al teletrasporto perché dobbiamo ammazzare delle cinghiale perché non abbiamo più la carne Dopo ci servirà e quindi la prendiamo Le abbiamo presi ogni tanto in giro però quella di cinghialo no E quindi insomma vediamo anche questa Cinghialo qui dovrebbe esserci Allora prima c'era Cinghialo? Signor cinghialo? Eccolo qui Vai vai Forza Fuck Eh sì sì Mamma mia 34 è fortissimo E mi ha anche bagattato completamente Mamma mia Cavoli Se mi prendi un'altra volta sono fattuto Non male che ho schivato Oh porca vacca Ok Non è andato Vediamo cosa mi dà Ho tenuto cinghiale Non mi ha dato la carne Un'altra cinghiale Cioè io volevo la carne Dove è dato il cinghialo? Signor cinghialo? Lei era qui vero? Sì sì Signor cinghialo? Dove cazzo è finito il cinghialo? Ma Lo sento eh Perché sento L'unire Eccolo 28 Dai Più basso Infatti già si vede La differenza Di danno che gli facciamo Perfetto dai Siamo soli a combattere Siamo soli a combattere Purtroppo Non è nessuna che ci aiuti Ecco qui Fatto Fatto Andiamo Cinghiale Spero sia cinghiale carne Perché se no Non so proprio come fare Ok questa è andata Ok scendiamo giù Di qua Verso la caschiata La caschiata Dove era? L'ho sentita qua E' perché qui c'è un po' di bestiame E quindi insomma si Perché mi sa che la carne Non c'è andata molto bene prima Vediamo un po' se ci aiuta Questo qui di 9S Perfetto Eh c'è poi lì qua Vai vai Perfetto Ok Vediamo cosa ci ha dato E niente Continua dammi cinghiale Ma secondo me c'è proprio Mit di carne Se la trovo Sembra che non ci sia nient'altro Comunque noi dobbiamo andare qua A fare piazza pulita Sì sì Siamo qui Siamo qui Siamo qui Eccoli qui Sì ti mi dite Wata Porca vacca Ok Ah stavolta l'ha sentita Abbastanza prepotentemente l'ha sentita Ok Vai Prendi Eh l'ho fatta raccolta Danno ancora TV2 Ok E questa è fatta Poi sicuramente ci deve fare questa adesso Ok io faccio un po' di piazza pulita qui tra i cervi Perché ci servirà anche quella E ci vediamo fra poco non vi annoio Ok adesso ci dirigiamo per il tipo degli animali Se vi ricordate quello lì che è a destra Andiamo di qua Perché vedete è comparsa la quest Quindi noi andiamo a vedere Cosa vuole Oddio Siamo Questi va che è meglio Vai Ok Ma una miseria Cosa vuoi cosa ho fatto Perfetto Direi che è data È data benissimo Perfetto Raccogliamo tutto il nostro dovuto Dai dai su su che ha fretta Devo andare al tipo Ok Solo che Edì sul top è qua che si trovano I potenziamenti per il pod E mi tocca far così Ok Perfetto Siamo a questo Ok Morto Quanto ci aveva messo Due secondi Quindi non c'è problema Andiamo pure Di qua Dunque Per andare dal tipo Bisogna passare dalla radice grossa Stavolta non mi sbaglio A furia di sbagliare L'ho imparata la strada La radice è questa No non era questa Era quell'altra Scusate Era questa Quale cazzo Era questa Era qua Ok Perfetto Vai vai Andata Vediamo cosa ha da dirci Salve Sono qui di nuovo Salve Siete tornati a farci visita Tuttavia Fammi terminare I bisogni di Altre medicine No No Qui stanno tutti bene Ma c'è un problema Che succede Di recente Un branco di animali Che viveva da qualche parte Nella foresta Si è trasferito qui Sì Questa creature Sembrano possedere Un forte istinto Territoriale Hanno ferito Hanno ferito Sono in grado Sono in grado di fermarli Ho già capito Dove vuole arrivare Ok 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 Perfetto Va bene Ho capito Ho capito che saranno Dei casini Andiamo pure Andiamo qua Qua Di nuovo Perfetto Ok 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 Tanto che questi si divertono Vediamo tutto quello che c'è da prendere E poi quando potremmo iniziare a fondere per far vedere Allora devo andare Prima di tutto qua Da questa zona qua Vediamo se riesco a salirci Ok Prima devo andare di qua Dunque tutto in là di qua Perfetto Di qui Vediamo tutta sta roba Interessantissima Così Ehm Ok Ancela qui Ok Ok Porta vacca Prenditi questo Adesso ce li vivo io Eh Ma porca vacca Sono tremendi eh Sono belli tosti Sì, sì, prima che ti ritieni una sciata Te lo ricordi Fino al prossimo anno Ok Adesso non potenziarlo, è vero Oh, forca miseria, c'è un altro Però quando potrò potenziarlo Non ce n'è per nessuno Ok, difesa fisica E questa è fatta Mamma mia, poi Andiamo a sud di qua Perfetto Passiamo il ponte Cos'arriviamo a destinazione da qua E' uguale Andiamo questo Uva d'acqua Cioè, speravo che fosse acqua Ok Andiamo qua Ma ci siamo, eh Andiamo questo Perfetto, andiamo pure Prendiamo anche questo Ma siamo arrivati, eh Sì, sali, gatti Molto gentile Ok, prendo anche questo La migrezzo E dovrebbe essere di qua Mamma mia, ha fatto una strage Ok Ci sarà da divertirsi Oh, forca vacca Oh, forca vacca Che cazzo Che fumato Oh, forca vacca Qui C'è un macello qui Ok Ok Oh, forca vacca Eh, perché sono troppi Mi hanno preso tutti Nella volta Devo rigenerarmi un attico Adesso piano piano Ce la faccio Ma per tutti Non la volta Porca miseria Cioè, si sono messi Proprio tutti in mezzo Allora, vediamo un po' Eh, cazzo Ok Vai Benissimo Eh, benissimo È educato È benissimo, sì Oh, mi ha ucciso Cioè, ma fanno troppo male Accidenti Continua Va bene Ritorno qua Ci vediamo fra poco E io ti ho fatto una corsa Per recuperarlo Sono veramente terrificanti Oh, ma ho quasi un asciutato Vediamo se da qua Riusciamo a fare qualcosa Che se no Non so proprio come fare Piano piano Che cazzo Livello 40 Ecco perché C'è 10 livelli sopra Un po' troppo Sono decisamente Un po' troppo Ecco perché Vi facciano così tanto malo Eh, porca vaca Adesso piano piano Sono un po' esagerati Comunque Stato lì Nesli Si diverte dai Lasciamolo divertire Se me ne fa fuori Uno o due Non è mica niente Ok Piano piano Ok Uno dove l'ho fatto fuori Si Vai Vediamo a quest'altro Aspetto Eh, se no Non ce ne è Vai, prendi Quello vicino Ok Lui Così a meno Se vado lì E non Mi bagatano Perché prima Cioè, veramente Tolgono troppo Sembra che la mia carica Non faccio cazzo Però Vabbè Vai Su Vediamo se riesco a fare qualcosa Dai Eh, cazzo Mi bagatano Mi bagatano Dai, su Ok Uno dove Ecco Adesso Riesco A gestirlo un po' Ho fatto la schivata A po' più appena Pili Eh, buonanotte Cioè, tolgono troppo E che sono anche troppi Però dai Uno è già andato Vai Spaccali Eh, spacca Spacca lui Spacca Scavacca Ok, un altro è andato Lui no Eh, qui Facciamo un tale Veramente Ok, così ho preso anche gli altri Dovrei prendere più i bagli altri Perché se no Non ce la posso fare Dopo mi vengono ad attaccare Dai, dai, dai Ok Se riesco a mangiare anche questo Dopo c'è solo l'altro Porca troia Vai Non è male che avevo Un po' di Medikit E adesso Tocca a te Prendiamo un po' Vai Doppio attacco Oh Vai Eh, adesso Se sei da solo è un altro discorso Cioè, scusami Un po' scemo Se anche mi fai un po' di attacchi Dovrei riuscire comunque a distrarli A evitare A evitare A evitare E niente Ho sbagliato Pod Ah, porca miseria Vai Oh Fa male, eh Però È gestibile da solo Ok Senta che avere una spada più potente Non mi sarebbe dispiaciuto Se avessi fatto Il potenziamento Ma non me l'ha fatto fare Perché non avevo I materiali Ok Perfetto Da che ce la facciamo È solo questione Di tempo Andiamo già al 50% Già 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 C'era veramente come un boss questo Resistentissimo Ok Allora una volta che si capiscono bene o male le movenze Si fa però Con la palla Già qua Aspetto Adesso Dai che va di manca poco Perfetto Ah Le stai prendendo le botte Anch'io E anche tante Perfetto Perfetto Benissimo Ma quando colpisce la spada grossa Li sente tutti Eh Gli arrivi Eh Sento anch'io Perfetto Perfetto Fatto Hai tenuto l'archivio Hai tenuto Orchivio tenuto Dati sul biomacchina animale Uff Cosa ho preso? Non ho visto un cazzo Ok Adesso andiamo a prendere Quello che Mamma mia Un macello Un macello Ah non mi dà neanche un cazzo Beh sono contento Dopo tutta la fatica che ho fatto Non mi dà neanche niente Vabbè adesso dobbiamo Ritornare a dargli la buona notizia Che aveva fatto una strada Di animali Ma con quella forse possiamo Che evitare di dirglielo E abbiamo ucciso Quello lì territoriale Ok E niente Possiamo Pensavo Dirigersi direttamente Dal Teletrasporto Perché È qui vicino E quindi Facciamo prima Ok Andiamo di qua Appendiamo E' sempre molto Eh Ok Uovo giganto Cialeppa Che un uovo giganto Gli ha dato Ok andiamo Così facciamo prima Se no ci mettevamo Veramente tanto Ecco qua Andiamo questo Ottieni Ma Moldavite Ottima Bene Ci teletrasportiamo Al centro della foresta Foresta centro Ok Vi taglio Il Il passaggio Allora Siccome ci dà L'auto Heal Salvo Vedo Che versione Ci dà Se ce la dà Stellinato Bene Se non ce l'ho Ce lo dà Io rifarò sempre Questa strada Finché non Riusciamo a prendere Quello buono Adesso vi faccio Della strada D'andata Vediamo La prima Se è buona Dubito Difficile C'è successo Due volte L'ultima volta È successo Con C'è dato due Uno buono Uno no E speriamo bene Dai L'auto health Mi interessa parecchio Autocura Allora era questo Oh porca vacca Eccoci qua E speriamo bene Perché è un più cinque Quindi è un più buono Vai Gli animali selvatici Non ci sono più Grazie Ora possiamo Vivere in pace Qui Questo è un segno Della mia gratitudine E abbiamo fatto Alcad 31 Chip Autocura 5 Era quello Che mi interessa Parecchio Il compro totale Per uno E più di 10.000 E 1700 di esperienza Avevo livellato Autocura 5 Vediamo un po' Come va C'è qualcosa Della macchina Capo del branco Quale macchina Il capo blanco Era una biomacchina Convinta di essere Un animale Non siamo riusciti Neanche a comunicarci Una biomacchina Diventata animale Non so Quale avrebbe potuto Causarlo Ma mi chiedo Cosa Se Se para ormai Una macchina Da una bestia Porca vacca Ok E questa è andata Guardiamoci subito Autocura Chip inseribili Tutti chip Autocura Potenzial armi Vedete Ho fatto una bella Accelta C'è tutta roba Che costa poco Adesso Infatti le ultime Che abbiamo preso Che sicuramente Costeranno un sacco Attacco caricato Autocura 5 Era Difesa fisica Vediamo un po' Un 5 Se riesco a vederlo Veloce Autocura 5 13 13 Dopo 6 secondi 7 C'è praticamente Ci fa un full Da panico No voglio provare A vedere se riesco A prenderla di meno Dai Vediamo un po' Vediamo Se questa autocura È meglio Dell'altra Mi l'ho dimenticato Del diacolo Allora Vediamo un po' Vita Chip Sonalizza Tutti i chip Autocura Vediamo Vediamo un po' La difesa Era poco più distante Da qui Non lo trovo L'ho perso Come al solito Era più 5 Più 6 Più 2 Più 3 Non lo trovo Altocura più 15 Niente Io ci spero sempre Allora Vediamo un po' Abilità Chip Vediamo un po' P5 Fatti con gli equipaggiati Ci vuole pazienza Allora Qui è più serico L'eco velocità Autocura Doveva essere qui 21 Siamo sempre peggio Non dimordo Allora Abilità Chip Questo qui Tutti i chip Autocura Più 5 13 Va benissimo così Lo teniamo a 13 Perché a meno È difficile Per me farà Massimo 11 Queste Romboidato Allora Vediamo di togliere L'autocura Che abbiamo noi Tutti i chip Equipaggiati Autocura 2 Abbiamo 10 Perfetto Lo rimuoviamo Ottimizza E gli mettiamo Tutti i chip Autocura Più 5 E dovrebbe bastare Perfetto Adesso ci rigenera Tantissimo È una cosa Fantastica Perché 7 punti Vita È tantissimo Perché è una cosa Continua Perfetto Mamma mia Che fatica Ragazzi Ci possiamo fermare qui Per questo video è tutto Il video per solito Lasciamo un like Un commento Ci piace Se ne fa Mi potete sapere cosa Pensate Prima di tutto sotto Ciao ciao